Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Ieri è uscito il listone di Fantacalcio.it E oggi, dopo averlo analizzato attentamente, per voi sono pronto a dirvi tutto Quali sono le migliori occasioni del listone? Chi sono i bug di ruolo? E chi sono i nomi che possono regalarci delle facili plusvalenze? Prima però, non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti Perché trovate una marea di contenuti a tema Guida all'asta del Fantacalcio E se volete restare aggiornati su tutti i contenuti che vi porteranno a vincere il Fantacalcio Cosa da fare è iscriversi e attivare la campanellina delle notifiche Non dimenticate di lasciare un like a questo video Che serve per supportare gratuitamente il canale Ma attenzione, è un portafortuna per la stagione fantacalcistica Infatti, chi non lascia il like è candidato a far sempre 65 e mezzo Per evitare questo, lasciamo il like Sono già uscite le mie fasce Sono disponibili per gli abbonati nel gruppo Telegram riservato E per gli utenti Premium Fantalab Se vuoi abbonarti o vuoi fare Premium di Fantalab I link li trovi in descrizione Per Fantalab, il tool Premium Se ti registri dal mio link o utilizzi il codice sconto Fantavirus Lo paghi solo 9,99€ all'anno Ovviamente, oltre alle mie fasce, le strategie e quelle di altri creator Hai altri vantaggi competitivi come tutto il tool di gestione asta In tema di abbonamenti, ricordo Le fasce sono un vantaggio che hanno tutti gli abbonati A prescindere dal livello Anche il livello da 1,99€ al mese Se vuoi fare un fantacalcio con me Ci sono gli ultimi posti Due posti per il Classic Un posto per il Mantra Abbonati al canale a livello Pro Da 3,99€ al mese Se sei interessato Abbonati subito Perché sostanzialmente Chi prima arriva ben alloggia E non ci saranno altri fantabbonati Se invece vuoi una consulenza pre-asta Abbonati al canale A livello plus A soli 9,99€ al mese Ma passiamo adesso al contenuto succulento Vediamo cosa è uscito fuori da questo listone A livello di porta Non c'è nulla di clamoroso da segnalare E quindi andremo a partire direttamente dalla difesa La grande occasione che vorrei segnalare è Dodo della Fiorentina a 9 crediti Non costa molto E se giocate in lega a listone Va preso senza dubbio alcuno Il brasiliano è un bug di ruolo Visto che gioca come esterno a tutta fascia Nella Fiorentina di Paladino E sin dalle prime amichevoli Si sta mettendo in mostra In questa posizione A livello offensivo E mi attendo quindi da lui Una stagione importante Occhio anche all'altro dirimpettaio Dei Giliati Sulla sinistra dovrebbe esserci Biraghi Che è quotato 7 crediti Mentre a solo un credito in più Adotto troviamo Marine del Napoli Per cui se cercate Un'alternativa economica Ai difensori più pagati E che possa essere un nome affidabile Al netto di nuovi e possibili arrivi Dal mercato azzurro Marine è il nome che può fare al caso vostro Un altro bug di ruolo Che va sicuramente segnalato E Zortea dal Cagliari A 7 crediti Giocherà molto offensivo Sulla corsia di destra De Sardi E a questa quotazione Va tenuto assolutamente In considerazione E a suon di bonus Può essere un'intrigante Plus Valenza Con un credito in meno C'è un altro esterno Di centrocampoli Stato in difesa Che è Chiriacopulos Del Monza Da cui mi attendo Qualche bonus E tante cose importanti Ma soprattutto Occhio a Tavares Della Lazio Gioca terzino sinistro Ma è un profilo molto offensivo E ha un costo Molto basso Nelle leghe all'istone Può rappresentare Un colpo interessante Il rapporto qualità-prezzo A 5 crediti C'è un altro bug di ruolo Che è Camara Dell'Udinese Di cui vi ho già parlato In un video recente Costa poco Può migliorare I numeri della passata stagione Senza Correre rischi E un nome Su cui possiamo Provare a scommettere A centrocampo Invece sono stati Smentiti diversi rumors Che vedevano Parecchi giocatori Offensivi Listati in attacco Dunque Questa visione Non si è avverata E quindi abbiamo Diversi bug Di ruolo a centrocampo Pulisic Centrocampista Più quotato In questo momento Di questo listone Del Milan A 30 crediti A seguire Zaccani Della Lazio A 27 Che da capitano Adesso avrà anche Più responsabilità E magari anche Calci di rigore Da segnalare Repolitano nel Napoli A 24 crediti Orsolini nel Bologna A 21 Che rispetto Ai nomi Citati in precedenza Costa anche Leggermente meno E nelle lega Listone Può essere un giocatore Su cui puntare Con decisione Non solo In chiave Plus valenza Poi 19 crediti Per uno Dei bug Di ruolo D'eccellenza Di questo listone Che è Dennis Mandel Parma Da attaccante A centrocampista E' chiaro Che cambia tutto Un giocatore Con in canna La doppia cifra Di gole Diversi assist E quindi Sicuramente Un top Di reparto Su cui Investire Cifre importanti E al listone Senza girarci Intorno A questo prezzo A 19 Si prende Senza se E senza ma Ovviamente Anche nelle leghe Ad asta E da puntare Per me Un top Va pagato da tale Quindi non Tiratemi indietro Anche a fronte Di prezzi Che tendono ad alzarsi Insomma Non siate tirchi Poi Massima attenzione A Suslov Del Verona 13 crediti E poi A due del Como Strefezza E da cugna Costo di entrambi 12 crediti A quota 9 C'è un poker Di nomi Molto interessante Maldini del Monza Che può agire Dietro la punta C'ha un A Della Lazio Che va ancora Inquadrato meglio Ma da centrocampista Può valere una puntata Oristani del Venezia Che con Di Francesco Ha tutto per poter Essere incisivo In zona bonus E Tete Morente Del Lecce Che è un bug Di ruolo Vero e proprio E lì sta da centrocampo E gioca Come esterno Offensivo Nel tridente Rimane Nenza lento Attenzione Adotto crediti A Marcinski E un trequartista Estremamente interessante In questo momento Tutto mi lascia Pensare Che possa Essertitolare Perché ha numeri A qualità Per farlo Oltre a una scarsa Concorrenza Quindi non posso Non segnalarlo Tra i centrocampisti Occhio anche A Carson Del Bologna Inaspettato Il suo arretramento Da attaccante A centrocampista Nelle leghe ad asta Piuttosto che in quelle A listone Dove costa Sette crediti Può valere Sicuramente Una grande scommessa Quasi obbligatoria Tra i nomi Low cost Segnalo Ellerson Del Venezia Due crediti In questo momento E un titolare Che può garantire Una plusvalenza Importante E in attacco Niente bug di ruolo Inevitabile Ma qualche colpo Interessante In chiave Qualità Prezzo C'è Sicuramente Per esempio Scamacca Dell'Atalanta 28 crediti Può essere Un acquisto Interessante Soprattutto perché Può permetter Di risparmiare Qualcosina Rispetto ad altri Nomi maggiormente Quotati Insomma Sicuramente Un ottimo terzo Per chiudere Un bell'attacco In una rosa A listone Non mi dispiace Nemmeno Leao del Milan A 25 crediti Che per esempio Rispetto a Quaraschedia Che ritengo In questo momento Alla pari Vi permette Di risparmiare Addirittura A 4 crediti Tra i potenziali nomi Da doppia cifra Di gol Un nome Quotato Abbastanza poco Rispetto ad altri E Luca Dell'Udinese A 14 crediti Può essere interessante Tra i nomi Low cost Sempre in casa Udinese Vado a segnalare Tuven A 10 crediti La paduda Del Cagliari A 9 Bonnì Del Parma Moschera Dell'Elas Verona Che costano 8 crediti A testa L'ultimo nome Gabrielloni Del Como Due crediti Non è un titolare Ma attualmente Davanti È la prima riserva Dunque Restassero così le cose Giocherà tanto Spesso Sì Dalla panchina Però nel tempo Garantisce Una plusvalenza Bene ragazzi Per oggi è tutto Ma Adesso parliamo Di mantra Dei possibili Bug Presenti In questa Modalità Di gioco Ne segnalo Subito Qualcuno Tre difensori Di Lorenzo Oltre ad avere La E È anche Un DDB Quindi può essere Sfruttato In più posizioni Difensive È come B Come Braccetto È un bug Da avere Obbligatoriamente In rosa Se vogliamo Giocare con una Difesa Tre Al pari di Dodò Che è DDE Ovviamente Vi segnalo Nuovamente Zortea Che è DDDSE Giocando D'Esterna A tutta Fascia Avrete Modo Di sfruttare Tutto Il suo Potenziale In posizioni Come quelle Del terzino Destro E del terzino Sinistro Che vi Consentono Di non Rinunciare A giocatori Offensivi Un discorso Simile A Di Lorenzo Lo merita Biraghi Listato B DSE E come Braccetto A tutto Se confermato Titolare Per imporsi Come bug In tante Difesa Tre Nuova Segnalazione Per Chiri A Copulos E Camara Entrambi DSE Tra le C Occhio A Ruben Loftus Schick E Bernabè Qualora Vadano A giocare Sulla Tre Quarti Mentre È stato Listato Nuovamente CT Pasalic Dell'Atalanta La sua gestione Fantacalcistica Non è semplice Ma adesso Al mantra Diventa una pedina Necessaria Da avere In rosa Ovviamente Con la dovuta Copertura Nel Bologna Occhio Alla coppia Fabian Ferguson Entrambi CT Con lo scozzese Che ha le prese Con un lungo infortunio Al crociato E si rivedrà Solo in autunno Inoltrato Tra le W Vado a segnalare Alcuni profili Molto interessanti Che hanno tutto Per garantire Tanti bonus Zaccani Ipolitano Orsolini E Manzututti Ai nastri Di partenza I moduli Con la W Potrebbero essere Quelli Con un maggiore Impatto Al fantacalcio Quindi occhio A questi profili Se gioca dal mantra Almeno uno Di loro Va acquistato Tra i profili Low cost Nome da segnalare Tete Morente Dell'Ecce Manco Ristagno Gioli offensivo Il stato W TA Poco da dire Sull'ET Ci sono nomi interessanti Ma il vero bug È Pulisic In questo ruolo È un'occasione Da sfruttare Un profilo Low cost Può essere Daniel Maldini TA Come lo statunitense Bene ragazzi Per oggi è tutto Il video finisce qui Mi raccomando Se non lo avete fatto Iscrivetevi E lasciate un bel like Ci vediamo domani Ore 11.30 Con un altro contenuto A tema Guida all'asta Del fantacalcio Ciao a tutti Ciao a tutti